Meno 27 non ci credo, meno 27 non ci credo, pazzo Parma, pazzo Parma, 3 a 1, altro grande stadio storico e spugnato, dopo il Meazza il Marassi di Genova, ce lo siamo portati a casa, 3 a 1, 3 a 1, 27 di salvezza, come il numero di Gervinio, il 27, e non c'era eh, la freccia nera non c'era, allora come la mettiamo? Abbiamo vinto eh, abbiamo vinto senza la freccia nera e non c'era lui, non c'era Inglese, non c'era Grassi e abbiamo vinto uguale, un sacco di infortunati e abbiamo vinto uguale, questa è la forza di questa squadra, una rosa pazzesca che nessuno gli avrebbe dato 2 lire eppure siamo lì, zona Europa League, bisogna dirlo, quello che bisogna dire bisogna dirlo, siamo in zona Europa e ci siamo, il campionato è lunghissimo, mancano ancora un sacco di giornate e adesso pensiamo alla salvezza, piedi per terra, non vogliamo troppo, non illudiamoci, per ora va bene così, che squadra, che partita, ovviamente si sblocca la partita, chi poteva segnare? Chi poteva segnare? Piatek, Piotek, chiamatelo come volete, questo come tocca al pallone entra, cioè qua, qua la presa, di nuca, di nuca, pallonetto, palo gol, quello inciampato è assegnato, io non lo so, questo come tocca al pallone, la palla entra, e vabbè, eppure l'abbiamo vinta, portata a casa lo stesso, nonostante il bomberone, nonostante il bomberone, gol dell'ex di Rigoni, grande Rigoni finalmente, meritatissimo, se l'è cercato, se l'è voluto e l'ha trovato, gran gol, dopo il gol mangiato contro la Juve, contro la Juve, contro la Juve, va bene, ha segnato, finalmente non ha esultato, perché è ex storico e quest'anno è così, i gol degli ex sono illimitati, speriamo che sarà così tutto il campionato perché vedo una striscia positiva davanti a me, guarda che, non lo so, grande difesa, seppe, altre grandissime parate, poi Bruno Alves, giocatore finito, eppure qui sta dimostrando che è rinato, rinato, Parma è così, la chiamano città Viagra perché tu rinasci, vai lì, se sei di malumore, prova, vai a Parma, prova, vedi, rinasci proprio città Viagra, date a vedere, Wikipedia c'è scritto, cioè è tutto documentato, carta su carta, date a vedere, online, dove volete, che Parma ragazzi, che Parma, è colui Gagliolo, soprannominato Rambo, non so se l'avete visto, tutto fasciato, ha continuato la partita devastante, insuperabile anche lui, da nazionale, cosa dico, cosa dico, vabbè, a proposito nazionale, facciamo i complimenti a Giovinco, adesso tra l'altro ci sarà la pausa, e complimenti a Sebastian, finalmente in nazionale, questi sono i giocatori che voglio vedere in nazionale, questi, adesso si mi dicono, in MLS, cosa vuoi che faccia, sì, come Gervinio dalla Cina, visto, è venuto in Serie A, questo qua io lo voglio vedere in A, deve tornare, deve tornare in Serie A, chissà, magari l'anno prossimo, nella squadra dove tanto lo ha esaltato, eh, colori crociati, eh, magari, magari lo rivediamo in Serie A, intanto godiamocelo in nazionale, spero di vederlo giocare, e sono contento per lui, finalmente, secondo me, convocazione meritata, noi ci guidiamo questa pausa, poi ci abbiamo il 21, al Tardini, ci vediamo lì, contro la Lazio, bella sfida, importantissima anche lì, noi abbiamo la fortuna di recuperare tanti infortunati, davvero, però, ste pause, ste nuanti, veramente, non lo so, vabbè, però è così, cosa dobbiamo fare, ci riposeremo, recupereremo gli infortunati, quindi, meglio per noi, però, a me, ste pause, non so voi, mi deprimono, e quindi, vabbè, aspetteremo, aspetteremo, una decina di giorni, e poi, ci rivedremo, quello che sarà, sarà, intanto recuperiamo le forze, ci guardiamo la posizione in classifica, adesso aspettiamo tutti gli altri risultati, ci siamo, ragazzi, ci siamo, altra grandissima salvezza, cosa facciamo, vi svelo il segreto di questo Parma, ve lo svelo? Ma sì, dai, ve lo dico, poi iniziamo a perdere, però, non lo so, se ve lo dico, ve lo dico, ma sì, dai, la forza di questa squadra è il gruppo, un gruppo eccezionale, vabbè, a parte l'allenatore, che devo dire, che è criticatissimo, e chi ha seguito il Parma in Serie B, questo qua lo avrebbero esonerato una partita sì, e l'altra pure, eppure è rimasto, ci ha portato in Serie A, adesso in Serie A sta facendo bene, è migliorato tantissimo, perché anch'io ero tra quelli che lo ha criticato per poca mentalità aperta, no? Perché aveva sempre le stesse idee, eppure mi sta stupendo, lui, come tanti ragazzi in Rosa, che l'anno scorso hanno fatto fatica in Serie B, e invece quest'anno, guardate, Siligardi ha segnato, gran gol, sta disputando le partite, non doveva neanche essere in Rosa questo qua, questo era fuori in Rosa all'inizio stagione, era fuori in Rosa e quando l'aveva stato chiamato in causa ha fatto delle bellissime partite, grande, quindi grande gruppo, grande gruppo, non c'è niente da dire, il mister, sì, complimenti, quando bisogna fare gli applausi bisogna farli, a chi è meritevole, quindi grande mister, ottime scelte, continua così, anche qui, oggi dal 4-3-3, è passato a un 3-5-2, ha buttato dentro un bastone, una partita che era complessa, e anche il bastone ha fatto bene, come lui, come De Iola, è entrato dopo, da Cruz, tanto criticato da noi parmigiani, eppure si è sacrificato tanto, ha corso tanto, ha recuperato tempo, ha appressato gli avversari, ha fatti sbagliare diverse volte, quindi complimenti a tutti, veramente, perché se il gruppo è unito così, fanno tutti bene, non puoi dare una insufficienza oggi ai giocatori, del Palma, hanno fatto tutti bene, tutti bene, quindi va bene così, che ceravolo, che gol di ceravolo, riguardate, una volta che segna, anzi, speriamo che sia sbloccato, speriamo che sia sbloccato, in questo 3-1, tre gol importanti, i giocatori che ancora non avevano segnato, quindi anche questo è un segnale importante, ci siamo tutti, chi gioca gioca, non importa, unico obiettivo, salvezza, e poi dopo vedremo, grandi ragazzi, ci vediamo a presto, dopo questa assenuante attesa, e cosa c'è da dire, campionato è finito? Non lo so, io, la certezza di questa Juve vincente, non la do, eh, non la do, non la do, non la do, non la do, ve lo dico, non la do, vedremo, ciao ragazzi, a presto!